Bentornati amici investitori, in molti mi chiedono dove mi informo, cioè dove trovo tutte le notizie e le informazioni che poi utilizzo nei video e nelle mail. Allora, io mi informo in vari modi, mi informo attraverso giornali finanziari, siti specializzati, paper, leggo anche molti libri, guardo molte interviste, però ho pensato di fare un video dove vi presentavo 5 buoni, validi giornali finanziari per gli investitori che sono particolarmente interessati a questa materia e che vogliono ricevere notizie, informazioni, approfondimenti da una fonte seria. Quindi, in questo video presentiamo i 5 più importanti giornali finanziari. Se vi piace il video, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, io sono Alessandro Lazzaro, cominciamo! Numero 5, il sole 24 ore. Sole 24 ore, giornale italiano, quindi ottime notizie dall'Italia, molto focalizzato non soltanto sulla grande impresa italiana e sull'alta finanza italiana, ma anche sulle PMI e su settori magari nascenti o comunque un po' più piccoli dell'economia italiana. Quindi, per chi vuole essere sempre up to date sull'Italia, è sicuramente un'ottima fonte di notizie. Tra l'altro, ha degli inserti molto interessanti in ambito fiscale e comunque di compliance, diciamo, in generale. Quindi, per chi è interessato a queste cose, sicuramente è un'ottima fonte di informazioni. Il lato negativo, se vogliamo, è che essendo focalizzato sull'Italia, tutto ciò che arriva dall'estero ovviamente è filtrato e quindi, se io so l'inglese, posso benissimo andare a leggermi le ultime notizie direttamente dalle fonti estere. Per cui, numero 4, troviamo l'Economist. L'Economist è di proprietà quasi per il 50% della famiglia Agnelli, tramite il fondo di investimento Exor, che è il veicolo che controlla il patrimonio della famiglia Agnelli. È un settimanale, in realtà, non è un giornale, però comunque è molto interessante. È un settimanale economico che spesso, diciamo, viene notato anche per le sue copertine, spesso sull'Italia, sull'Europa, comunque sulle ultime cose che stanno accadendo a livello mondo. Non è spiccatamente finanziario, ha tanta economia, però ha dentro anche tanta politica. Qua, infatti, vedete, ho aperto proprio giusto per fare questo video e vedete che, infatti, si parla di politica già in prima pagina. Però comunque, sicuramente, è un settimanale economico molto interessante da leggere e neanche particolarmente pesante, insomma, è abbastanza leggero. Numero 3, Bloomberg. Adesso qua passiamo un po' più sul tecnico. Bloomberg è un giornale finanziario posseduto dal miliardaio Michael Bloomberg, il signore dei dati della finanza. È in verità più di un giornale, è proprio un impero mediatico. C'è dietro anche una televisione, c'è anche un settimanale, Bloomberg Business Week, molto interessante. Ci sono anche dei podcast di varia tipologia molto belli. Bloomberg è molto newsy. Vedete, ha tutte queste notizie, alcune tecniche, alcune invece discorsive, alcune molto finanziarie, altre più economiche, altre ovviamente politiche. C'è tantissima roba, veramente, a volte che confonde anche. C'è tantissimo da leggere in continuazione, un po' troppo a volte. Però sicuramente, se volete, un'unica fonte che racchiuda un po' tutto, tra l'altro parla di America, però parla molto anche di Europa e di mondo. Non è troppo focalizzato, ecco, sull'America, pur essendo un giornale americano. Sicuramente è un'ottima fonte di informazioni all in one, insomma, tutto in una fonte, tutto in un giornale, in un format. È molto newsy, ecco, quindi tante cose, un po' disparate. Sì, però, insomma, sicuramente ci sono dei commentatori molto bravi che possono darvi degli insight interessanti, insomma, più della news che di per sé. Sì, è più di un raccoglitore di news, ecco. Numero due, il Wall Street Journal. Il Wall Street Journal è il giornale finanziario tra i più antichi, fondato addirittura da Charles Dow e Edward Jones, che sono quelli dell'indice Dow Jones, ancora nel 1800. Io direi che era una volta il miglior giornale finanziario. Io ho cominciato a leggerlo più di dieci anni fa ed era bellissimo, molto focalizzato sull'America, quindi molto americano, fuori dall'Europa, fuori dall'America molto poco. C'erano degli articoli che erano quasi dei paper, erano veramente dettagliati, veramente approfonditi. Negli ultimi anni, secondo me, si è un po' perso. È diventato più newsy, quindi appunto più simile a Bloomberg, con tante notizie in continuazione, però le notizie di per sé non danno molto. Si possono trovare dovunque ormai nel web, specialmente se uno cerchi in inglese. E ci sono tante tante opinioni e tanta tanta politica e oserei dire tanta politica un po' conservatrice. Il giornale è stato comprato più di dieci anni fa da Rupert Murdoch, diciamo l'imperatore dei media, anglosassoni e non solo. Secondo me un po' si sente, ecco, non voglio dire niente per carità, però una certa visione conservatrice è un po' pesante, devo dire la verità. Tanto se uno è conservatore è conservatore, se uno non lo è non lo è. È inutile che venga, insomma, detto in continuazione cosa bisogna o non bisogna fare. Diventa un po' pesante, quindi è sicuramente un'ottima fonte. Ci sono degli ottimi giornalisti che lavorano ancora qui, però ha perso lo smalto, secondo me, che aveva una volta. C'erano anche dei bellissimi podcast che sono stati tolti. Insomma, è sicuramente un'ottima fonte di informazioni per quanto riguarda l'America, però, insomma, una volta era più bello, ecco, non è più il top, secondo me. Numero uno, il Financial Times. Il Financial Times è un giornale inglese, anche questo vecchissimo. Tra l'altro il Financial Times, se voi investite in ETF indicizzati, ad esempio tutti quelli che seguono indici con la scritta FUZI, quel FT sta per Financial Times. Erano i vecchi indici del Financial Times Stock Exchange che derivavano proprio dalla marea di dati che il Financial Times ha sempre avuto su tantissime aziende a livello mondo dai tempi dell'impero britannico. Il Financial Times, a differenza del Wall Street Journal, si è salvato perché è stato venduto dalla Pearson, che era la società che l'ho pubblicata, al Nikkei, pensate un po', alla Borsa di Tokyo, quindi non ha un grande interesse politico, direi. Quindi il Financial Times si tiene abbastanza lieve, a meno che di leggere ovviamente notizie sull'Inghilterra, però per ciò che riguarda livello mondo, ciò che riguarda noi, ecco, le notizie a livello mondo, la versione internazionale di questo giornale è abbastanza pulito e c'è un bel bilanciamento di notizie tra il mondo e l'Europa. Quindi, a differenza del Wall Street Journal, che è molto americano, il Financial Times ha, se vogliamo, qualcosa ogni tanto di specifico sull'Inghilterra, però ha un buon bilanciamento di per sé tra ciò che succede in Europa e ciò che succede nel resto del mondo. E questo non è male perché spesso la visione che viene da fuori dell'Europa è un po' semplicistica, no? Così, con la... Cioè, in verità, i problemi sono più complessi, quindi avere la visione economico-finanziaria e anche politica, insomma, di qualcuno che ci è dentro è sicuramente più interessante di qualcuno che giudica da fuori in maniera un po' sommaria. Comunque, il Financial Times ha dentro un po' di tutto, ci sono vari formati, quindi veramente si può andare dalla notizia all'approfondimento veramente interessante, un po' su tutto, da problemi di alta finanza a problemi economici, molto interessanti, quindi sia per chi ama la finanza e quindi chi è interessato all'investimento, sia però per chi ama l'economia, l'economia pura, molto interessante, ha un unico difetto. Beh, intanto c'è un che di pessimismo britannico che, vabbè, si nota, si nota anche nei commenti, ma loro sono fatti così e vabbè, e poi il problema ovviamente è che costa, è più costoso, sono 50 euro al mese e non sono pochi, insomma, quindi è una spesa che bisogna valutare se ha senso fare, se uno è veramente interessato, perché se è una cosa così forse non vale tanto la pena. Ecco, questi erano 5 giornali finanziari, secondo me interessanti per approfondire argomenti economici, per restare sempre aggiornati, avere informazioni e notizie pulite di prima mano, sicuramente attendibili, con approfondimenti di vario tipo, i commenti anche, specialmente sui Financial Times, sono di livello abbastanza buono, quindi a volte si trovano informazioni buone anche nei commenti, questo non è assolutamente scontato quando si parla di giornali, quindi sì, è sicuramente un ottimo punto di partenza, insomma, si può partire con il Sole 24 Ore, che è il sito nostrano, e poi si può crescere, insomma, secondo ovviamente di quanto uno è interessato alla materia. Bene, con questo concludo, se vi è piaciuto il video mettete mi piace, iscrivetevi al canale, se siete interessati a imparare un metodo per costruire un portafoglio ad accumulo di lungo termine, andate a vedere la pagina del mio videocorso di cui trovate il link in descrizione qui sotto. Io sono al solito Alessandro Lazzaro, noi ci vediamo nel prossimo video.